Salve signori, ben ritrovati sul canale. Sarete sicuramente d'accordo con me quando dirò che le magie in gotformat sono troppe e troppo forti. Eh, quante volte succede che solo grazie a strappa possesso o sepoltura prematura l'avversario ci strappi la vittoria solo grazie a una carta? Per non parlare delle volte che top deck asculando anfora l'avidità o carità graziosa pesca quindi più carte e riesce a ribaltare la situazione. Oppure quando ci usano due di meno e ci scartano esattamente quella carta che ci serviva, che potevano scartare qualsiasi altra dalla mano e invece ha beccato proprio quella. Però effettivamente bisogna ammettere che sono veramente molto forti le magie in gotformat. Ci vuole quindi una maniera per usarle noi ma impedire di usarle all'avversario. E questo possiamo farlo con il mazzo di oggi, con in particolare la carta che vediamo proprio qui davanti, ovvero l'annullatore di magia. Avete presente Jinzo? Esatto, uguale per le magie. Ovvero finché lui è scoperto in campo le magie non possono essere attivate, gli effetti delle magie sul terreno non hanno il loro effetto e non possono essere attivate insomma. La differenza con Jinzo purtroppo è quella roba lì, l'attacco parecchio più basso nonostante voglia comunque un tributo. E chiaramente questo insieme al fatto che annulla anche le vostre magie quindi potrebbe essere controproducente è il motivo per cui non lo vediamo praticamente mai giocato se non proprio di side magari usato contro reasoning gate in mazzi che però magari non giocano proprio tantissime magie di main che a livello di meta sono veramente pochissimi. Forse panda barn, forse. Comunque l'annullatore è una macchina come vedete e anche tutto il resto del mazzo è formato principalmente da macchine dato che non vi ho ancora portato una lista basata un po' sulle macchine principalmente. Naturalmente se non quella lista ingranaggio antico che però vabbè c'erano più custodi di tombe che ingranaggio antico anche per forza perché in god format sono pochi l'ingranaggio antico. E dato che le macchine avevano preso piede più che altro a partire da subito dopo il god ovvero con rivoluzione cibernetica con i cyber draghi vediamo invece in god format cosa possono combinare le macchine dato che comunque già diverse carte piuttosto forti e dei supporti molto forti già ce li avevano. Allora è un mazzo macchina ma è anche caos perché nonostante l'annullatore di magia sia vento proprio l'attributo probabilmente più sfigato in assoluto ingot perlomeno con gli altri mostri invece facciamo attenzione al avere gli attributi giusti il giusto bilanciamento tra luce e oscurità. Quindi iniziamo innanzitutto con degli ottimi gialloni ovvero 3x di x testa cannone giallone macchina luce con milleotto d'attacco quindi bello grosso capace di buttare giù parecchi mostri del formato. E lui è sicuramente il mostro luce principale del mazzo per poter evocare i mostri caos per l'appunto. Ma per la gioia di tutti abbiamo un altro giallone il suo nome è meccacciatore il leggendario meccacciatore che sconvolse il meta quando uscì vent'anni fa nel lontano 2002. Solo e unicamente grazie a quel 50 d'attacco in più rispetto al mostro più forte di livello 4 che c'era quella volta che era il genio della lampada che ve lo rifaccio vedere qui di fianco. C'è solo il piccolo dettaglio che il meccacciatore quando è uscito per la prima volta appunto nel 2002 uscì come ultra rara del primo tournament pack perciò era molto raro e quindi credo che stesse su anche parecchi soldi. Invece adesso che sono passati vent'anni costa ancora più soldi di prima chiaramente. Perciò per i poveracci hanno fatto questa ristampa vergognosamente comune su inizio oscuro 2. Comunque il meccacciatore è 1850 d'attacco e oscurità e sono le uniche due cose che ci interessano. Cominciando coi mostri con effetto iniziamo alla grande con i tre annullatori di magia. Tre perché vogliamo proprio evocarlo il prima possibile subito dopo che abbiamo fatto noi i nostri porci comodi attivando tutte le magie che vogliamo. Ricordiamo che richiede un tributo e anzi in realtà un paio di maniere facili per evocarlo senza dover diciamo tributare per forza uno dei nostri mostri riguarda proprio l'uso delle magie. Perciò lo evochiamo usando delle magie che è una cosa ironica e molto divertente da fare. Comunque di magie ne giochiamo parecchie perciò giochiamo anche un paio di maghi della fede che non sono delle macchine ma sono comunque fortissimi come sempre. E inoltre attributo luce che ci serve come il pane per evocare i mostri caos. Un paio di macchine poi che giochiamo sono decoici che come saprete si scopre pescato una carta. È oscurità ed è macchina oltre che chiaramente il suo effetto fa sì che ci pariamo il culo da un eventuale attacco e chiaramente ci assicuriamo una carta in più. Riguardo i mostri caos giochiamo due stregoni anche tre non è che siano proprio malissimo in questo mazzo però dato che giochiamo diversi mostri evocabili tramite tributo può giocare anche tre stregoni del caos oltre all'ovvio glorioso soldato nero è un po' troppo rischiamo insomma di ritrovarci mani iniziali con niente da evocare, legni totali e insomma siamo nella merda a quel punto. Perciò due vanno abbastanza bene. Dopodiché iniziamo le monocopie con il festival delle staple perché abbiamo Forza Esiliata e Signora Guerrera DD per quel che riguarda i rimuovitori singoli di mostri. Virus infetta tribù per quel che riguarda la rimozione di massa di mostri dell'avversario e Breaker per quel che riguarda il distruggere magie tramule dell'avversario. Ma c'è posto per qualche altra macchina interessante in monocopia per esempio Riflettore. 1700 in attacco attributo luce e anche questo come al solito ci serve e con un effetto niente male. Avete presente Cilindro Magico? Più o meno siamo lì. Quando viene attaccato mentre è in posizione d'attacco, prima del calcolo dei danni l'avversario prende danno pari all'attacco del mostro che ha attaccato il riflettore. Poi, qualsiasi sia l'esito della battaglia, il riflettore si autodistrugge. Quindi anche se viene attaccato da un mostro più piccolo, tipo un ratto gigante, il ratto viene distrutto in battaglia, l'avversario prende 1400 di effetto suo per la battaglia, dopo il riflettore muore. Quello ovviamente è un caso brutto e sfigato se succede, però in generale il riflettore ci può servire da cilindro magico comunque per fare danno all'avversario o comunque da deterrente per non far attaccare l'avversario e in ogni caso ci serve che è luce e macchina. Un'altra simpaticissima macchina che giochiamo è Best Ingranaggio Antico. Ricordiamo che vuole un tributo, è un 2000-2000 che quando attacca come tutti l'ingranaggio antico non fa attivare magie trappole all'avversario e annulla gli effetti dei mostri che distrugge in battaglia. Quindi gli effetti scoperta si annullano, gli effetti tipo ratto gigante, pomodoro si annullano, l'effetto di serpente sinistro si annulla e quindi è molto bastarda da giocare. Poi comunque è una macchina, non è né luce in oscurità stavolta, quindi la mia tentazione di giocarla a due è un po' scemata appunto pensando al fatto che è terra e essendo un mazzo comunque che vuole fare anche caos, non sarebbe stato così utile giocarne un altro in più. E poi ribadiamo che giochiamo già un sacco di mostri non evocabili diciamo normalmente di livello 4 o meno insomma. L'ultima macchina che ve lo dico a fare si chiama Jinzo, quindi sì praticamente giochiamo sia annullatore di magia che Jinzo. Questo significa che se abbiamo in campo tutti e due questi signori l'avversario non può attivare né magie né trappole, beh nemmeno noi c'è per questo però ce ne frega poco una volta che abbiamo due robie del genere in campo. E per di più se dovessimo in qualche maniera evocare anche best in grangio antico anche gli effetti dei mostri, la maggior parte, o perlomeno molti, verranno annullati dall'effetto di bestia. Mentre l'ultimo mostro, chi l'avrebbe mai detto, trattasi del glorioso soldato nero, ovviamente. Ora riguardo le magie sono tante, proprio perché quelle dell'avversario non ci piacciono ma se le attiviamo noi invece va bene. Innanzitutto, essendo un mazzo strapieno di macchine, giochiamo tre rimozioni di limite. Carta che appena sono usciti i cyber draghi è iniziata a vedersi ovunque per ovvi motivi, mentre in gotte non se la caga fondamentalmente nessuno, perché nessuno gioca le macchine. È una magia rapida che, una volta attivata, raddoppia l'attacco di tutte le macchine che avete in campo. Alla fine del turno queste verranno distrutte. Carta pericolosissima per l'avversario, perché vi basta anche solo un Decoici, che è la macchina più scarsa che abbiamo nel mazzo, per avere con una rimozione di limite un 2.800 anche solo per un turno. Con due diventa un 5.600, con tre fate voi i conti. E Decoici è la macchina più debole, quindi già con un X testa cannone avete un 3.600 con una sola rimozione di limite, o Meccacciatore che è 3.700 insomma. E quindi con rimozione di limite potete riuscire a chiudere molto facilmente con anche solo pochi attacchi, insomma. Chiaramente il fatto che ci sia annullatore di magia fa sì che in quel caso rimozione di limite non vi serva nulla, però poco male ve l'assicuro. Perché non poter attivare rimozione di limite su annullatore di magia è un prezzo che si paga volentieri per non far attivare all'avversario tutte le sue magie. È sicuramente molto più utile, molto più forti. L'altra magia in 3 pair è Scambio di anime, che come vi ho detto prima l'annullatore di magia lo possiamo evocare abbastanza facilmente proprio usando delle magie. E una di quelle a cui mi riferivo era proprio questa. Noi siamo lì tutti belli ignorri con il nostro annullatore di magia, attiviamo Scambio di anime, tributiamo il mostro dell'avversario con una magia per l'appunto. E a quel punto l'avversario non può più attivare magie. Noi giochiamo 3 perché appunto cerchiamo di mettere giù l'annullatore il prima possibile, sempre una volta usate le magie nostre chiaramente. E vabbè ovviamente giochiamo anche Jinzo e Besti in Granaggio Antico, perciò possiamo benissimo evocare anche loro usando Scambio di anime. C'è spazio per una magia speziata? Sì, c'è spazio per una magia speziata. Il suo nome è Riduzione del Costo. Proprio perché giochiamo un sacco di mostri con tributo. Riduzione del Costo ci può servire per calare molto più facilmente i mostri che vorrebbero un tributo, a costo di scartare una carta dalla mano, il che non è solitamente una cosa così terribile. Questo perché l'effetto è proprio quello, scartate una carta, diminuite di 2 il livello di tutti i mostri che avete in mano. Quindi una volta attivata potete calare senza tributi, Jinzo, Besti in Granaggio Antico e soprattutto annullatore di magia. Di nuovo lo giochiamo facilmente usando una magia e dopo le magie non potranno più avere effetto. Infine le magie solite, quindi Tifone e Tempesta, chiaramente. Strappa Possesso e Sepoltura, che è il caso di dirlo, con Sepoltura potete tranquillamente rievocare annullatore di magia. A quel punto Sepoltura non funziona più, diciamo, anche se viene distrutta l'annullatore rimane. Stesso discorso che se si fa richiamo il posseduto su Jinzo, richiamo il posseduto anche se viene distrutto, Jinzo rimane lì. Quindi un'altra maniera per rievocare abbastanza facilmente l'annullatore. Infine le magie più forti del formato, quindi 2 di meno, Carità Graziosa e Anfora della Vedità. Riguardo alle trappole invece, dato che giochiamo Jinzo e dato che le trappole sono ben più lente delle magie, quindi non è che possiamo in un turno attivarne 3-4 e poi mettere l'annullatore e chi se ne frega, giochiamo solo quelli indispensabili, quindi forza riflessa, tributo torrenziale, anelo della distruzione, richiamo del posseduto. Tutto lì. Il mazzo è molto bastardo proprio grazie a questo bastardo, ve lo assicuro. Una volta messo ci sono delle volte che proprio l'avversario non fa più niente. Al di là del fatto che se gioca a reasoning gate ovviamente non fa praticamente più un cazzo, ma anche mazzi caos, normali così, insomma, le magie sono talmente tante e talmente fondamentali nel formato che non farle attivare all'avversario magari già di primo turno, se non ha degli spacchini può darsi che sia già sfacciato. Infatti spesso concedono appena vedono l'annullatore di magia se appunto evidentemente sono messi particolarmente male. Inoltre è un mazzo caos, è un mazzo che può vincere anche molto velocemente con rimozione di limite e quindi non è male per niente. Per farvi capire un po' di quello che parlo ci sono tre replay pronti a fine video da vedere. In realtà sono tutti e tre piuttosto corti, proprio per i motivi che ho appena detto. Il primo è contro un reasoning gate che gli ho messo l'annullatore di magia, in realtà è anche riuscito a spaccarmelo perché aveva il torrenziale, però dopo gliel'ho riavvocato con sepoltura e, poveraccio, non ha più potuto fare niente. Il secondo è contro un mazzo zombie che al quarto, credo, quinto turno, una roba del genere, gli ho messo l'annullatore di magia nel giro di un turno a concesso perché evidentemente, non lo so, pescava solo magia e non riusciva a far più niente. Mentre il terzo è molto divertente e molto breve come replay. È contro un caos control che mi ha rubato best ingranaggio antico con strappa possesso. Poi se l'è coperta con zucuyomi, la maledetta, e dopo questo affronto gravissimo, al turno dopo gli ho reso pan per focaccia nella maniera in cui vedrete appunto nell'ultimo replay. Come sempre, se vi va, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate del mazzo, se vi piace, non vi piace, eccetera, eccetera. E a questo punto non mi rimane che invitarvi a iscrivervi spontaneamente al canale. Perché se per caso non vi volete iscrivere, vi mando a casa il meccacciatore. A lui piaceva essere solo ultra raro quella volta, quando era uscito nel tournament pack, costare un sacco di soldi, essere insomma una carta così importante, così rara e così potente. E quindi non gli piace per niente essere stato degradato a comune da due centesimi. Perciò io gli dirò che l'idea di stamparlo comune è stata vostra e ve lo mando a casa, quindi voi dopo vedrete un po' che fare. E vi ricordo che è un cacciatore che instancabilmente insegue la sua preda agli ordini del re delle macchine. Avete capito. Per la lista di oggi è tutto, vi lascio dunque i replay e vi do appuntamento ai prossimi video del canale. Distinti saluti. Per la lista di oggi è tutto, vi ricordo che 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 è tutto. Per la lista di oggi è tutto, vi ricordo che è tutto, vi ricordo che è tutto. Per la lista di oggi è tutto, vi ricordo che è tutto, vi ricordo che è tutto. Per la lista di oggi è tutto, vi ricordo che 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 è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.